C'è la festa della liberazione e ricordata anche la resistenza ucraina. Quattro famiglie ucraine ospitate dall'oasi dell'accoglienza, la presidente Maria Chiera lancia un appello, non usiamo due pesi e due misure, dobbiamo accogliere i profughi di tutte le guerre. Dalle passeggiate al mare alle gite fuori porta fino ai pranzi in compagnia, ecco dove hanno passato, fanesi e turisti, la giornata del 25 aprile. Oggi facciamo una bella grigliata con gli amici, purtroppo il tempo speriamo tenga, per il resto buon 25 aprile a tutti. Mangialardi posta a Salvini e Le Pen a testa in giù, il leader della Lega va all'attacco e il consigliere del PD replica, è una polemica strumentale di chi ha un crollo di consensi e cerca di strumentalizzare un post per guadagnare qualche ora di celebrità. Daglio del Nastro a Rosciano di Fano per il nuovo parco inclusivo con giochi e attività accessibili a tutti e in piena sicurezza. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano le celebrazioni che si sono svolte in tutte le marche in occasione della liberazione dal nazifascismo, diversi picchetti d'onore, i cortei, le benedizioni e la deposizione delle corone dall'oro ai monumenti alla resistenza. Fano per la prima volta il sindaco Seri non è potuto essere presente alla cerimonia istituzionale a causa della positività al Covid, mentre a Pesaro il sindaco Matteo Ricci ha ricordato la resistenza ucraina. Difendiamo oggi come allora i valori della democrazia, uguaglianza e libertà, ha dichiarato il primo cittadino. Chi crede in questi valori, ha detto, non può che stare dalla parte del popolo che resiste. Invece il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ha presenziato all'iniziativa organizzata e amacerata. In un momento storico come quello attuale con la guerra alle porte dell'Europa, ha scritto su Facebook il governatore, è ancora più importante riaffermare i valori comuni di democrazia, pace e libertà che vanno perseguiti e tramandati affinché i fatti tragici, che ancora oggi sconvolgono intere popolazioni nel mondo, non si debbano ripetere mai più. E il pensiero dunque oggi è andato inevitabilmente anche all'Ucraina, forte il messaggio che arriva dall'oasi dell'accoglienza di Sant'Andrea in Vilis. La presidente Maria Chiera ha lanciato un appello alle istituzioni e ai cittadini affinché si possano accogliere sempre tutti coloro che stanno scappando dalle decine di guerre in atto in tutto il mondo. Lei è Svetlana, ha 36 anni ed è arrivata all'oasi dell'accoglienza il 18 marzo scorso con le due figlie di 8 o 9 anni e sua madre. Oggi vive in questa struttura, situata a Sant'Andrea in Vilis nel comune di Fano, insieme ad 11 connazionali scappati dalla guerra in Ucraina e ad altre persone affette da diverse patologie che necessitano di cure, trapianto di midollo osseo e terapie intensive. Lei arriva da Kharkov, dove la città è stata distrutta totalmente, per cui per adesso non intravedono un futuro e lei è un medico. Nella stessa situazione anche Tonia, felice di presentarci la sua famiglia. Now we are fine, I'm here with my son, my daughter and my mother-in-law. Tonia è qui con sua socia e i figli Vadim e Valeria, mentre suo marito è rimasto in Ucraina. Purtroppo loro vivono a Kiev e in questo momento sembra, però tutti i giorni, almeno 3-4 volte al giorno, anche sul cielo di Kiev, cade, tirano qualche piccola bomba, mi diceva proprio ieri. E quindi ancora ripartire con i bimbi, anche se lei ci tiene moltissimo, loro ci tengono tantissimo, perché chiaramente il papà è là e loro non vedono l'ora di rientrare. Però è chiaro che se non prima c'è la certezza, adesso hanno la speranza di ieri, che era la Pasqua Ortodossa, e del 9, che è un po' la giornata che riprende la loro liberazione dalla loro democrazia. Per cui speriamo bene. E nell'attesa di ricevere notizie migliori, alloggiano qui all'Oasi dell'Accoglienza, diventata nel tempo una vera e propria famiglia delle famiglie. Maria Chiera, che fondò l'associazione esattamente 30 anni fa, oggi ha voluto lanciare un messaggio a cittadini e istituzioni. Abbiamo un totale di 21 persone in casa oggi. Ce ne sono 12 dell'Ucraina, però abbiamo l'Italia, abbiamo l'Africa. Io mi auguro che veramente l'accoglienza, la liberazione, intanto che arrivi la liberazione anche dell'Ucraina, che tutti amiamo, speriamo, preghiamo e invochiamo dall'alto, ma la invochiamo anche per tutti gli altri paesi di cui non si parla mai. Noi che accogliamo anche l'Ucraina, anche gli ucraini, ci sentiamo però di sottolineare che gli africani non sono da meno, che gli indiani non sono da meno e che molti italiani non sono da meno. Per cui le difficoltà burocratiche, continue, per i permessi di soggiorno, per questo, per quell'altro, credo che siano state fatte due pesi e due misure, seppur felicissima, e lo rimarco felicissima, dell'accoglienza fatta agli ucraini. Ma questo bisognerebbe farlo per tutti, si porti alla mente, la libertà alla mente, di rendere libera sto fazzoletto di terra che c'è stato donato. E visto che c'è stato donato, è bene offrirlo, ma a 360 gradi. E adesso vediamo come hanno trascorso questa giornata di festa, falisi ai turisti. Oggi 25 aprile, voi siete fatti una passeggiata qui per il corso, siete di Fano, siete dei turisti? Ma noi abbiamo abitato qua, quindi noi siamo legati a questo luogo, veniamo molto spesso, poi anche in vacanza. Dove siete? Ferrara. Adesso che mio marito è in pensione, passiamo qui perché c'è un lungomare, stare in città è più... si sta meglio, insomma, non è locale. Di qualche mesetto state qua? Sì, un po' andiamo e torniamo. Vi piace Fano? Sì, sì, veniamo sempre volentieri, certo. Oggi cosa fate? Passeggiata al mare, lungo il mare fanese? Sì, oggi passeggiata lungo il mare, il tempo non è bellissimo, però... Ma siete di Fano oppure siete di fuori? Siamo di Cagli, ci siamo trasferiti da poco a Fano. Vi piace l'ambiente cittadino rispetto all'entroterra? Beh, diciamo una cosa diversa e quindi proviamo. Quindi nonostante un po', adesso sia diventato un po' il tempo incerto, avete deciso di fare una passeggiata? Sì, sì. Ma stiamo facendo un giro qua, i miei genitori vivono qua e mangiamo qua in spiaggia. Tu invece da dove venite? Bologna. Bene, da dove venite voi? Firenze. Avete deciso di visitare Fano questa mattina? Sì, stamattina proprio. Siete arrivati stamattina? Siamo arrivati ieri, abbiamo visitato Urbino, Pesaro e oggi Fano. Partite domani? Stasera purtroppo si torna in Firenze. Vi è piaciuto questo giro panoramico del nostro entroterra? Sì, molto bello. È la prima volta che siete venuti qua? È la prima volta, sì. Gli ritornerete? Speriamo di sì, dai. Noi siamo di Napoli ma abitiamo qua. Ah, quindi siete tornate qua, avete la casa qua a Fano? Sì, sì, abitiamo qua, proprio vicino a Porto. Giornate in tranquillità e relax, sì. Stamattina dove siete andati? Io personalmente sono arrivato al Furlo e poi sono venuto giù in direzione Carniano, Candelara, Pesaro e poi sono venuto di qui di Fano, mi ha raggiunto la moglie con la bicicletta pedalata assistita. Quindi è una bella sbiciclettata. Sì, per digerire il pasto della domenica. Quindi oggi in bicicletta, il pomeriggio invece si va a mangiare da qualche parte, poi a pranzo oppure no? Un pranzo fugace e veloce, riposo perché domani inizia il lavoro. Veniamo qui tra amici e peschiamo e vediamo un po', ma solo che il pesce è ancora poco, perché l'acqua è fredda, bisogna aspettare il periodo più caldo, tra 15 e 20 giorni, speriamo, che arriva la bella stagione. Quindi oggi comunque non avete pescato nulla? Assolutamente. Ovviamente i quadri sono visitabili oppure no, sono privati? Sono privati e quando c'è qualcuno, degli amici, si fa salire, della gente, si fa salire qualcuno per vedere, insomma, è una cosa caratteristica di Fano. Qua sui quadri si mangia, vedo c'è un sacco di pesce, cosa avete cucinato? Allora, oggi facciamo una bella grigliata con gli amici, purtroppo il tempo speriamo tenga, per il resto buon 25 aprile a tutti. Cosa hai cucinato? Allora abbiamo fatto la grigliata e qua ci penso io, poi l'altro chef è il dottor Cordella, che lui invece farà dei passatelli con il sugo di pesce. Quindi tutta la giornata da stamattina che siete qua fino a stasera? Abbiamo lavorato tutto il giorno, pur di fare il 25 aprile. Allora chi è qua? Lo chef Carlo? Eccolo, eccolo, eccolo. Carlo, che cosa hai preparato? Tu da stamattina sei in cucina? No, da ieri sera. Ah, da ieri sera addirittura. Negli ottimi passatelli. Eccolo, questo è il pranzo di oggi. Esatto, crudi li mangiamolo. Voi invece cosa avete fatto in questo pranzo? Niente. Voi mangiate solo? Abbiamo portato i vini. Quindi voi bevete, non avete cucinato? Tecnica no. Quindi solo poi ballate, anche c'è la musica qua? Solo supporto morale. Ballerino. Supporto, tu sei ballerino? No, no, io no, supporto morale. Sì, salsa e merende. Più merenda che salsa. Merenda che salsa. Allora buon 25 aprile. Grazie a tutti, auguri a tutti. Viva la liberazione. Bilancio positivo anche per i ristoratori fiduciosi per i prossimi mesi. Rimane però il problema della carenza di personale. Oggi diciamo che la gente, anche molti all'ultimo rispetto a qualche anno fa, che prenotavano molto tempo prima, hanno poi deciso con il bel tempo della giornata comunque di uscire, di essere spensierati. Vedo che con comunque anche il periodo di pasquale, così, le persone, ci sono stati tanti asporti, quindi persone che comunque hanno avuto piacere comunque di rimanere a casa e hanno preferito fare comunque un delivery. Ma tanti altri che comunque hanno gustato il pranzo pasquale, comunque a ristoranti, spensierati nell'essere anche serviti e non preparare. Ecco, la speranza è quella che ovviamente è di ritornare alla normalità il prima possibile. Sicuramente le persone, i ragazzi, le famiglie hanno voglia di fare una bella passeggiata, di ritornare alla normalità. Ecco, questo sicuramente. Il bilancio di questo 25 aprile, come sono andate le prenotazioni ed eventualmente anche di un eventuale futuro, come si prevede? Beh, per quello che riguarda tutto il weekend più oggi, siamo più o meno, siamo tutti al completo e di conseguenza il bilancio non può essere che positivo sotto tutti gli aspetti. Ci ridà un po' di ossigeno per tutti quei periodi che abbiamo passato, chiaramente che ci hanno un po' debilitato sotto l'aspetto finanziario. Per il resto, per il futuro, c'è qualche ombra per quello che riguarda principalmente due punti in particolare. Uno è l'occupazione del suolo pubblico, che ci era stato promesso anche per quest'anno gratuitamente e in qualche parte, diciamo, in parecchi ristoranti. Ci sarà una defezione di spazi che non possono essere utilizzati perché magari la sede stradale è stata magari chiusa, oppure delle vie dove sono state chiuse, però era una cosa anche molto carina. Sulle strade venivano messi questi tavolini dove la gente poteva magari mangiare qualcosa all'aperto in più. E forse l'altra nota dolente è sicuramente il personale, che tutti abbiamo problemi con il personale. D'altronde questo reddito di cittadinanza ci ha dato, diciamo, è una concorrenza sleale a tutti gli effetti perché un ragazzino che prende 800 euro per non far niente o venire a prendere 1000 o 1200 lavorando magari anche diverse ore e chiaramente preferisce stare a casa, prendere 800 euro e divertirsi. Questi sono i due problemi principali. Poi per il resto speriamo in una bella stagione, visto che fino adesso abbiamo avuto solo che freddo e anche oggi non possiamo mettere fuori i tavoli e c'era molta richiesta per star fuori. Ha suscitato reazioni e polemiche il post pubblicato dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi, che in una storia postata su Instagram ha inserito una foto rovesciata di Matteo Salvini e Marine Le Pen, sconfitta alle presidenziali francesi con uno screenshot con su scritto Salvini, ti fa ancora le pene ed è ancora uno dei principali sponsor di Puti, avversari dell'Europa e nel nostro paese. La replica del leader della Lega non si è fatta attendere. Mangialardi, pacifista e solidale ha scritto su Facebook, posta a me e Marine a testa in giù e magari oggi sarà in piazza con la bandiera della pace, buona festa della liberazione da guerra, proseguito violenza ai cretini. Invece il commissario della Lega Marche ha detto che è vergognoso che si invochi la pace ma si continui ad alimentare odio, Mangialardi chieda scusa e si dimetta. E noi facciamo rispondere al diretto interessato che abbiamo in collegamento. Buonasera Mangialardi. Buonasera, buonasera a tutti e buon 25 aprile. Anche a lei la ringrazio. Ha letto le richieste e i commenti della Lega, che cosa risponde e qual è il significato del suo post? Guardate, io sono veramente imbarazzato perché Salvini si sta occupando invece delle questioni serie di questa nazione, di una storia che aveva ovviamente un significato totalmente diverso da quello che è stato invece interpretato. erano penso le 20 e 30 quando stava vincendo Macron e mi sono collegato all'atteggiamento che Salvini aveva avuto anche nei giorni scorsi su tanti talk show dove diceva che la Le Pen serviva era per ribaltare l'Europa dall'atteggiamento che a lui ovviamente non confà. E quindi, come dire, a fronte di una foto di Le Pen al diritto ho ripreso un commento e invece, ma come per dire, vi siete ribaltati voi e nient'altro. Quindi si parla di una strumentalizzazione politica secondo lei? No, no, lo è, non è che si parla, cioè nel senso che poi hanno invece fatto elugubrazioni che non hanno niente a che vedere con il mio vero significato e che invece è stato collegato al 25 aprile e al pacifismo che invece riconfermo perché io ieri ero alla Marcia della Pace e oggi ero a festeggiare il 25 aprile. Sicuramente non mi sono occupato né di Le Pen né di Salvini e assolutamente della Lega regionale che ovviamente non ha capito nulla, ma non è nemmeno la prima volta e danno un'interpretazione tutta loro. Quindi logicamente non si dimetterà da questa sua risposta? Mancherebbe, ripeto, il problema è loro che non hanno capito il significato se è stato, come dire, non era così chiaro lo specifico e lo chiarito in un post e un comunicato stampa ma aveva assolutamente quel significato, nel senso che andate a vedere i talk show al quale ha partecipato Salvini in questi giorni, dice sostengo la Le Pen perché è l'unica in grado di ribaltare gli indirizzi di questa Europa. ha vinto Macron e si sono ribaltati loro, ma come dire, se non si capisce il significato almeno che non ne venga dato un altro, questo sì, perché sono molto più imbarazzanti, lo dico, i commenti che vedo sotto il post che sono offensivi sia per Salvini, perché a qualcuno attribuisce vuol dire quel ribaltato invece ad altri episodi che sono molto molto lontani dal mio modo di pormi e quindi assolutamente niente. È stato chiarissimo Mangialardi, grazie per questo collegamento e buona serata. Grazie, grazie a voi davvero per avermi dato questa opportunità, davvero, grazie, buon proseguimento. Di nuovo. Dunque andiamo avanti con il telegiornale. Ieri mattina in occasione della giornata nazionale per la donazione degli organi all'ospedale di Urbino è stato inaugurato il Giardino delle Rose con al centro una scultura realizzata dal maestro Ermes Ottaviani intitolata Il Dono. La cerimonia è iniziata con una santa messa ufficiata dall'arcivescovo della diocesi di Urbino, Monsignor Giovanitani, a cui è seguita la benedizione della scultura, poi la consegna delle pergamene, con le quali il direttore dell'Area Vassa 1 e la coordinatrice locale per le donazioni di organi hanno voluto attestare un sentimento di riconoscenza e gratitudine nei confronti delle famiglie e dei donatori. Invece a Rosciano di Fano sabato scorso è stato inaugurato un nuovo parco inclusivo nei giardini Rivera a tanti bambini e le famiglie che erano presenti al taglio del nastro. C'era Filippo Pucci. Sicuro, bello ed inclusivo. Lo possiamo riassumere così il nuovo parco Rivera a Rosciano che da oggi ospiterà tutti i bambini, le famiglie del quartiere e non solo. È stata inaugurata sabato scorso la nuova area giochi di Via Antonioni. Al taglio del nastro, oltre all'amministrazione comunale, hanno partecipato diversi residenti, ma soprattutto tanti bambini che per l'occasione si sono divertiti anche con le diverse attività organizzate dal CSI di Fano e dal laboratorio del centro Gas Gas. Cinque le nuove installazioni dedicate tutte a loro. Inauguriamo sicuramente un parco inclusivo. Inclusivo significa un parco per tutti. Appunto, come vedete alle mie spalle, ci sono cinque giochi completamente giocabili da bambini, sia normodotati che diversamente abili, quindi con disabilità, perché proprio vogliamo garantire a tutti la stessa abilità, la stessa possibilità. Questi luoghi nascono per favorire il senso di comunità e questo senso di comunità naturalmente ci aiuta a far sì che tutti insieme possiamo essere accolti in luoghi che devono generare benessere. Sono state installate all'interno di questo parco cinque strutture. Una è una giostra con appunto cinque seggiolini, sia per bambini diciamo col seggiolino tradizionale che col seggiolino per agganciare il bambino che ha disabilità. Ci sarà una giostrina appunto dove c'è la seduta per entrambi e quindi c'è un ingresso sia per la carrozzina che la seduta normale. C'è una struttura polivalente alle mie spalle, quasi a casina, con lo scivolo, anche quella è completamente accessibile da tutti, un gioco sensoriale e un'altalena cestello. Inoltre sono stati installati anche nuovi arredi come panchine e tavoli con sedute, anche queste con un occhio di riguardo alle persone con carrozzina. A questo si aggiunge anche un nuovo impianto di illuminazione a led, cestini e delle fontanelle d'acqua. Costo dell'intera opera 80 mila euro. Questo investimento l'abbiamo iniziato lo scorso anno con il parco inclusivo a Carrara, oggi a Rosciano, presto realizzeremo anche Fano 2. Il senso vuole essere proprio di andare a dare una bella risposta anche sui quartieri e non necessariamente solo sulla città. Fin da subito i giochi sono stati presi di mira dai bambini, contenti per la realizzazione di questo spazio dedicato tutto a loro. Durante la giornata le famiglie del quartiere, le diverse attività del posto e le associazioni hanno contribuito ad una merenda offerta a tutti i presenti. A Rosciano abbiamo questi nuovi giochi avuti dall'amministrazione, l'anno scorso la pista polivalente e quanto un'amministrazione collabora con le associazioni il fatto dimostra che le cose vengono e vengono fatte bene. Ancora cronaca, i vigili del fuoco di Fano oggi pomeriggio sono intervenuti al confine con l'ex Casa Bartoli in via del torrente a Fano in zona trave a causa di un camion in disuso andato in fiamme. Oltre ai pompieri sul posto erano presenti anche i carabinieri e la polizia locale. Cambiamo argomento, domani pomeriggio alle ore 16, tempo permettendo, nel giardino di Viare di Puglia 5 al poderino di Fano verrà inaugurato uno spazio di gioco, incontro e fraternità. Lo spazio gestito dalla Pitomarche in collaborazione con l'associazione Vivere il Poderino, la Caritas Parrocchiale di San Pio X, la Caritas Diocesana e il paese dei Balocchi vuole favorire l'incontro tra i bambini ucraini e quelli del resto del mondo residenti a Fano. La maggior parte dei pedagoghi, infatti, ritiene che gli apprendimenti più importanti per la persona si acquisiscano nei primi anni di vita, in particolare attraverso il gioco con il quale i bimbi sono liberi di esprimere ciò che provano mediante disegni, colori, manualità e creatività senza forzature. Lo spazio, denominato Giochiamo Insieme, sarà aperto tutti i martedì e i sabati dalle 16 alle 18. E adesso parliamo di bocce, perché quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per la famiglia Manuelli. Infatti, i due atleti della San Cristoforo, padre e figlio, hanno vinto rispettivamente a Osimo e a Reggio Emilia. Il primo sta scrivendo la storia del boccismo nazionale, il secondo, a soli 15 anni, pare disegnato a seguire le orme del papà. Babbo Gianluca ha trionfato al Trofeo 1500, una gara nazionale di alto livello organizzata a Osimo e proprio nelle stesse ore il figlio Federico ha vinto nella categoria Under 15 la quinta tappa del circuito Prestige a Reggio Emilia, superando in finale il compagno di squadra Riccardo Giacomo. E adesso apriamo l'album di Fanu TV, perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a Giuseppe Paoloni, ad Emma Tamburini, che ieri hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Le vediamo anche in una fotografia, quella in alto, scattata il giorno delle nozze, dopo la Santa Mesa ufficiata nella chiesa del porto a Fano. E sempre ieri hanno festeggiato le nozze d'oro, 50 anni di matrimonio, Vittorio Guerra e Pia Benedetti residenti a Fano. Auguri da parte di Luciano Grazella e ovviamente da tutto lo staff di Fanu TV. E io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia, il telegiornale torna domani sera alle 20.30, mentre la rassegna stampa domattina in diretta alle ore 7 insieme a Massimo Foghetti. Buona serata. Grazie.